siccome io c'ho il pytec fate che io uccido voi chiappate le piastrine perché sono troppo lento a correre io uccisione confermata le piastrine valgono punti 1 uccisione confermata siamo in vantaggio uccisione confermata uccisione confermata oh la madonna uccisione confermata 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 mia con il pytec sembra di essere un veterano vanno giù subito eh più o meno no però vanno giù abbastanza in fretta sembra di essere quasi un veterano mamma mia però che cazzo uccisione confermata però te la camperano di brutto te la camperano mamma mia ci si eh guarda che ci avete un culo guarda che è una cosa mamma mia uccisione confermata qua comunque sono tutti camperati qua dentro dai mo sbuca fuori l'altro che ce l'ha camperato qua oh ma me ne becco sempre quattro per volta raga mario mario vieni con me sennò qua non ne vediamo a capo mario al centro dentro ce ne sono sempre quattro per volta fidatevi di me se non venite al centro è un casino io non ce la faccio da solo sono troppi no non ce la faccio da solo ci vuole ci vuole qualcuno ecco si 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 ma tanto la partita viene giocata qua ah ma che cazzo fai eh che culo di merda che carabinieri sempre a coppia oh porca troia eh vabbè guardali 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 che c'hanno un culo che è una cosa allucinante allucinante il culo che c'hanno questi ma vaffanculo vai uccisione confermata uccisione confermata uccisione confermata uccisione confermata mo questo sbuca di qua uccisione confermata ma non era uccisione confermata uccisione confermata uccisione confermata Uccisione negata UAV pronta Uccisione confermata UAV alleato in sorgolo Uccisione confermata Cadroia Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Vinciamo Oh porca troia Uccisione confermata Uccisione confermata Eh ci vuole sì Uccisione confermata Bella lì Bella vittoria sentinel Vai vai Ok Mija Mija Grazie a tutti.